Eccoci, eccoci, ben ritrovati qui sul canale YouTube di Radio Rossonera con un nuovo episodio di Agamba Tesa Ovviamente sempre in compagnia di Davide Giovanzana, ciao Davide Ciao, ciao Leo, ciao a tutti, bentornati nel miglior format mai creato Esatto, l'avete detto voi, non l'abbiamo detto assolutamente noi Nel miglior format mai creato e oggi ci troviamo a parlare perché in realtà l'argomento doveva essere diverso Ma abbiamo cambiato in corsa, perché? Perché notizia di ieri dell'infortunio di Noa Okafor Che lo terrà fuori dal campo per un po' perché sicuramente è una lesione Quindi resterà fuori dal campo per almeno una o due settimane Potremmo dire Agamba Lesa Agamba Lesa, tra l'altro esatto, Agamba Lesa Subito comunicazioni di servizio, i like, mettete like a questo video Commentate qui sotto perché parleremo di Francesco Camarda ovviamente E chiaramente iscrivetevi al canale di Radio Rosso Nera 700 like per il Camardone Ce lo facciamo Camardigno Ce lo facciamo 700 like 700 like è l'obiettivo di questo Gambatesa Perché? Perché oggi ci troviamo costretti a parlare di Francesco Camarda Perché domani alle 20.45 ci sarà Milan Fiorentina Non ci sarà Raffaeleao, non ci sarà Noa Okafor, non ci sarà Olivier Giroud Il tridente titolare dovrebbe essere Pulisic, Ciuqueze e Luca Jovic Ed è proprio qui che mi vorrei soffermare Perché dovrebbe essere convocato anche Francesco Camarda Sempre notizia di ieri data da Matteo Moretto e anche Fabrizio Romano Quindi ormai la diamo quasi per certa Francesco Camarda partirà con la squadra per San Siro Davide, io prenderò le parti del sì Cioè per me Francesco Camarda deve non essere convocato Giocare A questo punto giochiamo Lanci direttamente il razzo A questo punto per me giochiamo Dobbiamo andare contro la Fiorentina In una partita decisiva ragazzi Perché non stiamo più scherzando L'Inter ha più 8, giocherà con la Juve Possibilità che una delle due Anzi certezza che una delle due perda punti Il Milan con la Fiorentina deve vincere È in emergenza assoluta E ragazzi questo è un fenomeno Mi dispiace Non l'avrei voluto far giocare quest'anno Ma questo è un fenomeno E se è un fenomeno lo dimostrerà anche a San Siro Ciao Leo innanzitutto voglio salutarti Comincio col dire che sono d'accordissimo Che per quello che ha già fatto vedere Nelle categorie minori E quest'anno in primavera Dove praticamente gioca E segna E come segna Perché il gol che fa in Newt League In rovesciata È un gol da predestinato Abbiamo visto tanti attaccanti passare Dalla primavera del Milan Lorenzo Colombo Marco Nasti Che sta facendo bene in Serie B Ma esplodere così Giovani Perché ha 15 anni Come Francesco Camarda Non ne abbiamo visti C'è un però Io sono consapevole Che la situazione è difficile Sono consapevole Che non c'è nessuno Si è fatto male questo Si è fatto male l'altro Però che momento è Leo Per la stagione del Milan Quanto è delicato il momento Stiamo parlando di una partita Che è un'ultima spiaggia Praticamente Cioè se non la partita La settimana diciamo Fiorentina Dortmund Frosinone È un'ultima spiaggia È un ultimatum È un momento dove c'è una pressione Folle sul Milan È un momento delicatissimo Lanciare nella mischia Un quindicenne Pur predestinato Che sia In un momento così difficile È la scelta giusta? Siamo così sicuri Come dice il titolo Che Francesco Camarda Possa Reggere Questo tipo di pressione Perché Camarda Non è che lo metti Perché lo devi mettere Perché non c'è nessuno Camarda lo devi mettere Ma deve comunque contribuire Perché non è che può Allontrare E fare il birillino Perché se no Prendi Luca Romero Gli fai fare la punta E non cambia nulla Sì ma non posso Allora Capiamoci Il Milan va Senza attaccanti Contro Fiorentina Perché Luca Jovic Di questa stagione In questo momento È impresentabile È però sai La partita del Non ha mai tirato in porta Davide Le parliamoci chiaro Poi magari farà gole Verrò smentito Ci mancherebbe Però c'è da considerare Questa cosa qui Francesco Camarda Metti che entra Al sessantesimo Settanta Fa male Cosa cambia? Nulla Perché tanto Jovic Faceva male prima Quindi non penso Che il tifoso del Milan Vada ad aggredire Francesco Camarda Il giorno dopo Piuttosto Diciamo l'espediente Sarà Luca Jovic Sarà la dirigenza Che l'ha preso Sarà Stefano Pioli Per tutti gli infortuni E il suo staff Ma non penso Che abbia dei risvolti Non penso che domani Contro Fiorentina Venga bruciato Francesco Camarda Perché non può essere bruciato Se fa male Ragazzi A 15 anni Se fa bene Nessun tifoso del Milan Con una capacità di raziocinio Andrebbe a prendersela Con Francesco Camarda Nel caso Dovesse giocare E dovesse fare Una prestazione negativa E allora tanto vale Metterlo in campo È impossibile Io sto parlando Della resa effettiva Della resa effettiva Del calciatore Del calciatore stesso Del calciatore stesso Perché lo abbiamo visto Anche in primavera Essere anche un trascinatore Perché comunque Esulta con la squadra È parte del gruppo Tante volte Chiama anche l'attenzione Partecipa tanto Alla manovra offensiva E da questo punto di vista Sembra già avere Due o tre anni in più Di quelli che ha Infatti gioca sempre sotto età Però Però leo Quante volte L'abbiamo visto l'anno scorso Con Charles De Keitelare Quante volte ha retto La pressione di San Siro Mai Certo Cioè 20 minuti Però sono giocatori diversi Cioè stiamo parlando di uno stadio Che ancora una volta Grazie a dei tifosi Veramente fantastici Che al Milan Fa 75 mila persone Il sabato sera Contro la Fiorentina La Fiorentina È in una partita Da dentro fuori È un momento delicatissimo La pressione è alle stelle Stiamo parlando di un quindicenne Con un fisico Non ancora sviluppato Ma lo vedi Basta guardare le foto Cioè lo vedi Che questo continua A prendere centimetri Cioè gli anni passano Ma lui non ha ancora Completato il suo sviluppo A livello fisico È un rischio Secondo me anche Da questo punto di vista Cioè vai a giocare Contro Martínez Quarta Ma va bene Ma se sei un predestinato Tu Martínez Quarta Te lo mangi Per quanto mi riguarda Poi fisicamente pagherà Però attenzione Anche lì Davide Non lo devi far giocare Spalla alla porta Non lo devi far giocare Spalla alla porta L'errore sarà quello Ma d'altronde Nemmeno Luca Jovic Può giocare spalla alla porta E ci gioca L'errore eventualmente Di far giocare Francesco Camarda È che non può giocare Spalla alla porta In questo momento Ma ha lanciato in profondità Il fiuto del gol Ce l'ha Il passo da predestinato Ce l'ha Chiaro Tu dici dentro fuori Sono d'accordo Una partita decisiva Una partita difficilissima Ci arriviamo male Sotto tutti gli aspetti Ma proprio per quello Ti dico Anche con Donnarumma Ci arrivavi male In tutti gli aspetti È uno degli esempi Che prenderemo In considerazione Ci arrivavi male In tutti gli aspetti Però l'hai lanciato In un ruolo Molto più delicato Che di quello da punta Sì Con un fisico diverso Ma giocava in porta Va bene che è un rischio enorme Perché le papere Dei portieri Sono molto più gravi Dei gol sbagliati Dei attaccanti Su questo siamo Siamo tutti d'accordo Però Donnarumma Quanti aveva Appena 16 anni Oppure poco meno Di 16 anni Oppure già compiuti Aveva un fisico Già importante Aveva un fisico Da uomo Aveva un fisico Da calciatore E infatti Questo è stato un po' Anche una roba Che poi Ha influenzato negativamente La sua carriera Ma i giovani Secondo me Vanno fatti esordire In una comfort zone Cioè non può essere Camarda Fatto esordire Poi sono d'accordo Che potrà Potrebbe diventare La slide indoors Della stagione Dici wow Vinciamo con la Fiorentina Tutto bello Segna Camarda Bellissimo Per di con la Fiorentina Tratto Camarda E niente Si aprono le porte così Ma guarda come fa Cioè quando E noi prendiamo Si dice sempre Però il Barcellona Li fa giocare Quando i giovani Esordiscono al Barcellona Esordiscono Però in una comfort zone Esordiscono In un contesto Che li prepara Ad esordire Così giovani Con una squadra Che li aiuta E con tutta Una società Che li copre Che li culla Che li coccola E che sa rendersi conto Anche se è presto Quando è il momento giusto Questo è il momento giusto No non lo è Però posso dire Se tu fai questo discorso Correttissimo Del Barcellona Momento giusto Poca pressione Al Milan Questa roba qui Non c'è mai Non ci sarà mai Cioè viene lanciato Un giocatore E' vero Tu dici potrebbe fare Un altro anno Poi magari un anno in prestito E poi forse Entrare in pianta stabile In prima squadra Però nella vita Queste cose non le puoi prevedere Tu parlavi di Decetelare Della pressione Che non è riuscito A reggere Beh ragazzi La differenza Fra un gran giocatore Un gran bel giocatore Un bel giocatore E un fenomeno Sta tutta qui Sta tutta qui Poi ripeto Se Camarda farà male Giocherà poco Sbaglierà un gol Penso che nessuno Vada a crocifiggerlo Ma assolutamente no E allora a quel punto Tanto vale farò giocare Perché Iovic Ad oggi è presentabile Non è una questione Di tifosi Non è una questione Di tifosi Non lo so come chiudo L'allenatore Non sono io Sto semplicemente Facendomi una domanda E chiedendomi E chiedendovi E chiedendovi Soprattutto commentatemi Quanti like avevamo detto? 700 700 like Come i gol Che ha già fatto Francesco Camarda In carriera Tra l'altro Non mi ricordo più Cosa stavo dicendo No Cioè questo ragazzo È il momento giusto? Cioè La carta della disperazione È diventato Francesco Camarda Anche per lui Cioè Veramente lo vogliamo fare Siamo così sicuri? Io personalmente No Reputo comunque E sono d'accordissimo Con te Questo calciatore Un calciatore predestinato Un calciatore Con un futuro Che deve scrivere lui Che deve scrivere lui Ma che se riesce A trovare il contesto giusto A trovare Magari Non so Procuratori Squadre Allenatori giusti Questo calciatore Può veramente essere Il futuro del calcio italiano Del milan E del calcio italiano Ovviamente Ma il futuro Inizia adesso? È la domanda Che giriamo a voi Il futuro Inizia adesso È il momento Di Francesco Camarda Con la Fiorentina Scriveteci Se siete d'accordo Con me Con Davide O avete un'altra opinione Qui sotto Nei commenti Mi raccomando È importantissimo In ogni caso Davide Fra poco meno di un giorno Anzi poco più di un giorno Sapremo Se sarà stato Il momento Di Francesco Camarda O quello Di Luca Jovic Chissà Io sono curioso Dovesse entrare Perché sarò A San Siro Secondo me Lo stadio Vibrerebbe Vibrerebbe E questo Sono d'accordo Davide Grazie Grazie a te Leo Grazie a tutti Mi raccomando Like 700 Commenti Se arriviamo A 1000 Camarda Farà 1000 Goal Quindi più like Mettete Mi sa che Camarda Li fa lo stesso 1000 Goal Ma aspettiamo I vostri 1000 Like Un saluto Anche da me Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.